Allora, dal solito e sempre accogliente Barri Imperial di via 95esimo Fanteria, iniziamo a parlare un po' del nostro Lecce che si appresta a disputare questa partita che tu Mario hai definito internazionale, vedremo un po' come stanno le cose, la situazione del Lecce, l'arrivo dei nuovi giocatori, questo organico che secondo me si è notevolmente potenziato e credo che Lerda adesso non possa più lamentarsi nel modo più assoluto e aveva ragione a lamentarsi perché non riusciva a fare nemmeno una partitella di allenamento 11 contro 11, quindi oggi sia numericamente sia quantitivamente la squadra è completa, quindi adesso si tratta di trovare una certa continuità che nei risultati c'è stata, perché due partite e due vittorie è mancata la continuità nel gioco, nella prestazione delle due partite, infatti abbiamo notato con la Cremonese un buon primo tempo, un brutto secondo tempo, l'inverso nella partita di Cuneo dove nel primo tempo il Lecce non ha abbigliato tanto, anche se ha segnato due gol perché è stato molto civico, poi invece nel secondo tempo, specialmente i primi qui, 20-25 minuti, il Lecce si è spesso alla grande e poi ha gestito negli ultimi minuti finali il risultato portando a casa la prima vittoria esterna del campionato e portandoci a 6 punti e classifica in testa alla classifica, quindi una situazione che credo meglio di così non poterà mai essere. Sì, sei d'accordo Mario o no? No, ovviamente, hai riassunto in maniera molto concisa tutto l'argomento che sarà oggetto del dibattito dietro. Intanto dobbiamo, oltre al Barimperio che ci ospita, il ringraziamento ai telespettatori che ci vedono perché più ci vedono meglio è, insomma, ci facciamo conoscere come neo tifosi di una serie C, penso che noi abbiamo fatto pure in tempi in cui questi non erano nati. Intanto, ovviamente, noi due ci conosco, ma ribadiamo il concetto che con noi c'è anche Paolo Conte, New Entry la settimana scorsa, giovane, quindi è interessante sapere neanche cosa ne pensi di giovane. Normalmente nel campo dello spettacolo si dice buona la prima, ma noi in questo caso ribadiamo il concetto, o meglio, lo modifichiamo e diciamo buona la seconda. Buona la seconda, perché la prima, per quanto buona diciamo che è stata soltanto positiva, mentre la seconda è stata da considerarsi buona, intanto perché è una vittoria e poi di casa, intanto perché alcuni meccanismi sono stati anche aggiustati, intanto perché abbiamo notato di positivo una cosa. Io di positivo non voglio dare dei meriti particolari ai calciatori perché certe volte è sbagliato mettere quello, ha giocato meglio di quell'altro, cioè fare delle graduatorie che possono essere soltanto soggettive. Però non si può trascurare il fatto che Pogliasino, per esempio, è alla seconda rete consecutiva, quindi tutto sommato non essendo un cannoniere, è uno che sa inserirsi, dimostra quella qualità che il LEC in questo momento sa di avere. Così come, però lascio una riflessione poi al mio amico Paolo Conte, così come è da rivenere qualche meccanismo in difesa perché da una squadra che forse, dico forse, potrebbe essere l'ammazza campionato, non ci si aspetta due rigori di seguito. La percezione è che questo LEC possa vincere il campionato a mani basse, credo sia palpabile un po' a tutti. Certo, le prime due giornate di campionato hanno visto il LEC vincere con non solo gol di scarto, sia contro la Cremonese che contro il Cuneo, andando anche incontro a dei patendani di una certa valenza. Per quanto riguarda, per rifarmi al tuo discorso, si sono palesate delle lacune difensive contro il Cuneo che invece per andare giusto in controtendenza non lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. Infatti con i nuovi innesti ad esempio di Verose e di Zappacosta, che sono dei mediani di rottura che cercava l'ERDA per andare a completare il suo scacchiere dopo la partenza di Del Vecchio, credo che siano degli acquisti importanti che possano fare filtro davanti alla difesa. Però vedi Paolo, è importante, almeno dal punto di vista psicologico, io sono contento della prestazione di Cuneo, non tanto per la vittoria di se stesso, ma quanto che si è confermato, ripeto, un jasino come giocatore di livello superiore. Ma anche la rete di esposito non va sottovalvata, perché questo ragazzo probabilmente ha bisogno di una carica psicologica particolare, che non dimentichiamoci, bene o male, in qualche modo ha sempre giocato tra Serie A e Serie B, non può essere improvvisamente sceso da fuori in bidone come sempre, invece non lo è. In questo senso, esposire bene che abbia segnato, si carica da solo. Non a caso è un giocatore di livello, a mio parere, eccelso per la categoria. Vorrei sottolineare ancora una volta la super prestazione di Memushay, che si sta rivelando un giocatore di un'importanza fondamentale per questo Lecce. Però io dico pure, come hai precisato tu, non voliamo troppo. Sono stati acquistati dei giocatori che hanno potenziato il centro campo per creare una rottura maggiore. Adesso devono essere probabilmente rifiniti i meccanismi di gioia, devono essere coloriati, certi automatismi. Ma non ci dovrebbero essere debbi, Mario, su questo. L'arrivo di Di Maio, per esempio, un giocatore che è in difesa, ha pure il vizietto del gol innanzitutto, è un giocatore che rinforzerà notevolmente la difesa. Poi arriverà anche in questi giorni Gilberto Martinez. Quindi io credo che possiamo stare ampiamente tranquilli. Io la sto vedendo in questa squadra quasi uguale a quella del 95-96, quella di 16 anni fa. C'è una super squadra una super squadra, però ricordiamo ancora una volta, anche se l'ho detto la settimana scorsa, che vinse il campionato, che doveva stravincere il campionato, però lo vinse soltanto all'ultima giornata pareggiando a Roma con la Lodigiani. Però la squadra era forte. Era forte. Talmente forte che anche in Serie B, con pochissimi ricambi, questa squadra è successa. I Bacci, i Cucciari, il Mazzeo, i Franciosi. Aveva un ottimo Zanoncelli. Zanoncelli, Lorieri in Porta. Quindi era un super squadrone veramente. Noi dobbiamo sudare per vincere il campionato. Non ci sono dubbi. Non partiamo col fatto che distruggeremo tutti. Come ho sentito qualche tifoso, noi vinceremo tutte le partite, noi arriveremo a 90 punti, a 100 punti. Andiamo con i piedi per terra, stiamo calmi, perché dovremo sudarci questi punti qua. Nelle prime due partite un pizzico di fortuna l'abbiamo avuto, dobbiamo riconoscere. Perché se Benassi non pare il rigore, la partita molto probabilmente finisce in pareggio. Lì, se Bogliasino non sfrutta quell'occasione, forse la partita finisce pure in pareggio. Quindi stiamo un po' calmi. Però è vero Vittorio, il Bogliasino che sfrutta quell'occasione, unito al gol di Bogliasino la settimana scorsa, il gol di Fino, ti lascia intravedere il fatto che in Serie C, in questo momento, ci stanno dei calciatori che in Lecce ha, che possono creare la differenza. Sì, sì, dubbiamente. Cioè, avere il Bogliasino o avere il Giacomazzi o avere questi, insomma è diversa. Hanno anche amministrato la partita. Mario, e aver sentito che l'arbitro ha avuto una certa sudditanza psicologica, che effetto ti fa? Perché in Lecce adesso incontra altri che hanno una sudditanza psicologica nel Partito di Lecce. Siamo la Juventus di qualche anno fa in Serie B. Il fatto della sudditanza psicologica è ineliminabile. Perché? Perché inevitabilmente qualunque arbitro non lo fa perché è in malafede in quel momento. Ci stanno gli arbitri in malafede. Ma quello che mostra questa leggera sudditanza psicologica è inevitabile che quella forma di rispetto che l'arbitro ha per la squadra che indubbiamente ha la caratura superiore. Questo è nato, Mario, dal fatto che non ha espulso benassi in occasione del riso. Però sai, ci sono delle interpretazioni. Poi abbiamo visto anche in Serie A, talvolta che arbitri internazionali non espellono il portiere, perché in effetti la norma dice che il portiere va espulso, non perché ha fatto fallo sull'ultimo uomo, ma bisogna vedere che questo ultimo uomo la palla dove la stava portando. Se va verso la bandierina del calcio d'arbitro non è una chiara occasione del portiere, è un giallo. In ogni caso questa norma è bene che venga tolta. Adesso si cominciano a levare tante altre voci in tal senso ed è giusto perché un portiere non può essere penalizzato col rigore e con l'espulsione. Lasciamo quindi l'interpretazione agli arbitri. Adesso proiettiamoci alla partita col San Marino. La partita col San Marino è una partita internazionale. Il San Marino è una realtà che esiste all'uomo, cioè è uno Stato indipendente, regolarmente riconosciuto. E' una squadra giovane, Mario. Una partita internazionale. Anche con questa giocheremo per la prima volta, sarà la 191esima squadra che il Lecce incontrerà in campionato nella sua storia. E' una squadra giovane con la quale non abbiamo mai giocato, ma non per colpa nostra, è stata per colpa del San Marino, che è stata una squadra che ha militato sempre nei campionati direttanti. Anche se ha fornito, anche se il San Marino, ha fornito un grande giocatore alla Juventus, Bonini. Bonini, è vero, è vero. Quindi ecco, è una partita inedita questa qua e che la giochiamo per la prima volta. Vedremo un po' quello che succederà. Per il resto, io ripeto che Verda ha tutte le possibilità di schierare una bella squadra. Io prima di chiudere puoi passare la parola a Paolo per il commento del suo finale. Volevo soltanto fare una presentazione a quello che hai detto tu all'inizio, circa la rosa che è ben adesso articolata numericamente. Però attenzione, io non vorrei, e a questo credo che l'ERDA non lo faccia, non lo faranno neanche i calciatori che hanno interesse. Però certe volte, sai, le rose lunghe o le cosiddette rose complete, a Lecce abbiamo visto che hanno creato dei problemi. Perché il calciatore che va in tribuna e vede giocare l'altro in campo che ritiene essere inferiore a lui, non si trova neanche in panchina, certe volte cominciano a mogugnare. Quindi dovrà essere molto intelligente l'ERDA a sapere gestire le forze. Non gli mancherà questa intelligenza, assolutamente, perché sembra un buon allenatore. Vorrei sentire il parere. Finché più abbondanza c'è, meglio è. Secondo me, per quanto concerne... La troppa abbondanza potrebbe dare fastidio, ma un'abbondanza normale. Adesso all'organico ho visto che sono 26-27 giocatori. Io credo che sia un numero giusto, giusto per una squadra che deve portare in campo di 100 giocatori e quindi va bene. Anche perché consente all'ERDA di sperimentare nuovi modelli tartici, avere più, avere delle alternative in più. Speriamo che la regola del non c'è due senza tre si possa concretizzare. No, ma io credo che arriveremo a nove. Sono ottimista, cioè arriveremo a nove. Ricordiamoci che il San Marino proviene da una vittoria, da una vittoria settimana scorsa contro il Tritium e settima in classifica con tre punti. Le dichiarazioni di mister Petrone la dicono lunga sul fatto che i sanmarinesi verranno qui a Lecce non in gita, ma verranno con il coltello credente a cercare di giocare la loro partita. Quindi è una partita che nasconde delle insidie. Tutte, tutte, certamente. Tutte le partite. Ma in Lecce dovrà giocare con un certo piglio per portare a casa la vittoria. Chi giocherà contro i Lecce? Chi giocherà col sangue ai detti? Una velocissima domandina. Cosa ti aspetti dal TNAS? Dal TNAS? Assolutamente niente. Ah, bravo, bravo, bravo. Io mi ero anche dimenticato che ci fosse, sinceramente. Ma ci sarà forse, forse una sentenza. Dovrebbe essersi. Il Tribunale che non farà niente delle attività sportive. Io credo, Mario, che come abbiamo fatto ridere il procuratore Palazzo, come abbiamo fatto ridere la commissione disciplinare, come abbiamo fatto ridere la corte di aggiorno. Lasciamolo perdere, adesso ormai c'è il Lecce in Serie C che sta andando bene. Lasciamolo perdere questo processo. Noi ci piglieremo adesso l'aperitivo molto fiduciosi e ringraziando tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Senza, arrivederci. Ciao a tutti.